La prima volta che sono stata in un negozio Bassano Mobili per me è stata una specie di folgorazione, un amore a prima vista. In pratica ho toccato quei mobili e ho sentito subito la differenza, la qualità del legno. Ti dà come una sensazione di forza, di robustezza. È un po' tipo come quando sei davanti a un'opera d'arte. Poi piano piano ho cominciato a scoprire le piccole e grandi storie che stanno dietro questi mobili. La scelta dei tronchi, i lunghi periodi di essiccazione del legno. Per esempio mi hanno fatto vedere come alcuni pezzi vengono piallati a mano, come i mastri ebanisti lavorano e scolpiscono i vari intarsi e i vari intagli dei mobili. È un mondo veramente affascinante. Poi adesso sui mobili in esposizione fanno dal 30 al 50 fino al 70% e quindi i mobili che ho comprato io già adesso valgono di più. Poi hanno appunto il marchio a fuoco che ne garantisce l'autenticità. Poi vabbè adesso posso dire di vivere in una casa bellissima. Poi vabbè adesso posso dire di vivere in una casa bellissima.